Da TV Castel del Piano presentiamo la scarpazza e la farinata di ceci. Ingredienti. 250 grammi di farina di ceci. Un litro d'acqua. 10 cucchiai d'olio di mestra vergine. Sale. Prepe. Questi ingredienti sono sufficienti per 7, 6 e 8 porzioni. Procedimento. Mettere in una soltola la farina di ceci. Versare a poco a poco l'acqua, girando con una porchetta, per evitare che si fornino i grudi. Fino ad ottenere un composto omogeneo. Mescolare al composto l'olio e amalgamare bene tutto. Regolare il disegno e lasciare riposare per almeno tre ore. Eliminare la schiumetta che si sarà formata in superficie. Così è il problema. Ungere una teglia tonda e versare la farinata, rimestando fino a quando l'olio si sarà assorbito. Cuocere in forno a 200 gradi per 15 minuti. Mangiare calda con una sfruttata di tete. Questo qui è un seguimento. Se si vuole. La scarpazza. Ecco gli ingredienti. 200 grammi di farina, acqua, 500 grammi di pietre messate, un porro, 3 uova, 100 grammi di parmigiano prattugiato, sale, pepe, qualche pittina di lardo, olio extravergine d'oliva. Questi ingredienti sono sufficienti per 4-6 persone. Procedimento. Procedimento. Tagliare il porro a rondelline sottili e farlo rosolare per 5 minuti in una padella con un po' d'olio. Sale e le pettine di lardo, che poi verranno tolte. Aggiungere le pietre tritate rossolamente e farlo rosolare altri 5 minuti. 5 minuti in una settimana mettere la verdura, il parmigiano prattugiato, le uova prattute a parte, amalgamare bene il tutto. Su una scalatoia, versare la farina e impastarla con acqua e un goccino d'olio. Separare l'impasto in due parti e stendere le due sfoglie, una più grande dell'altra. Ungere una teglia e foderarla con la sfoglia più grande, con la sfoglia, sfoglie più grande. Versare l'impasto e ricoprirlo con la sfoglia più piccola. Buche dell'allare e la pasta con una porchetta e ungerla con un po' d'olio. Cuocere il forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Per vivere tiepida o fredda. Noi questa ricetta l'abbiamo appena fatta e vi diremo come abbiamo fatto. Adesso ve lo faccio vedere. L'abbiamo fatta un po' diversa perché mamma invece che fare la pasta sfoglia è stata un po' furba. E allora ho comprato di zaccola fatta. Poi dato che non avevamo il porro e le biescole e ormai a Ballurra abbiamo usato i spinaci e la verdura preferita. Le salcicce sono buonissime e la cipolla normale, ma niente lardo. Come se la salciccia era lardo. Poi avevamo messo in forno come c'era scritto. E adesso Franci vi farà vedere come è venuta. Ecco come è venuta insieme a un po' diversi ingredienti, i spinaci, la cipolla e la salciccia. Ciao!